Ci sono degli investitori che a un certo punto si erano premurati di scrivere un documento di 15 pagine per spiegarci tutti i motivi per cui non avevano investito e noi non potevamo avere successo, non l'abbiamo mai letto quel documento. Perché sono affanno? So solo che loro non avevano investito in un aumento di capitale che noi prezzavamo 12 milioni e hanno fatto veramente a botte per poter investire a 100 milioni di valore anni dopo. Beh, quella è una bella soddisfazione. Nel momento non l'avevamo mai letto, però appunto probabilmente ci avrebbe fatto male leggerlo perché non era un feedback veramente di valore, era più gente un po' avversa al rischio che si era fatta la lista delle scuse interne per non partecipare a questo investimento. Quanti siete?